Io non so dove devo andare per i marker, te lo dico subito. Mi hanno sparato, vabbè. Stiamo allontanissimi. No, siamo al villaggetto dei cosi. Oh merda, al villaggetto ci potremmo beccare gente davanti a noi sulla sinistra dove sto correndo. Dobbiamo andare alla montagna la prima, giusto? Cioè abbiamo montagna, destra e sinistra, bisogna rivedere tutto. Andiamo prima a montagna, così poi ci guardiamo intorno. Ah, io l'unica cosa che vi dico, dove sto guardando ora, in quel punto preciso, c'è uno spawn lontano però da qua, circa 300 metri quasi da noi. Vanno sopra le rocce a guardare poi ovviamente il campo, dove c'è una secret stash praticamente. Abbiamo ora uno spawn a destra, perché vedete ci sono gli user camp, spawnano lì dietro. Quindi ora arriveremo alla strada che noi dobbiamo crossare per andare alla roccia. Quindi buttiamo un occhio... Io butterò un occhio a destra. Saliamo e scendiamo a sinistra per andare sotto. Non so da che parte bisogna andare. Sotto il lato sinistra. All'aereo? Da quel lato diciamo. Ok. E allora sì, passiamo a sinistra. Io non so come si sale su, eh. Cioè, di conto alla montagna io la schifo sempre. Non mi piace andare lì. All'alto davanti. Attento sulla sinistra. Sto guardando la testa io. Mi è davvero sveccato lo spawn peggiore per farlo a questo. Eh sì. Player. Yes. Deve essere viaggetto. Più vicino. È sulla roccia quella che dicevo io della secret stash. Ok. Vado a vedere. Colpo silenziale. A destra. A destra. Un altro colpo silenziale. Questo è un SBD. Ma che cazzo è? Vado a vedere per questo, eh. Ok. I miei occhi sembrano non captare niente. Ma che quello silenziato è vicino? È entro 100 metri, ragazzi. Il problema di salire qui con il giorno è che facciamo contrasto con il cielo. Dopo queste rocce c'è James. Scav cecchino levati da davanti a me. Chi è questo? L'hanno droppato. Hanno droppato lo scav cecchino. C'era uno di voi che mi sia stato tutto il tempo tanto mentre miravo. Hanno droppato lo scav cecchino, sì. A sinistra. Sotto la montagnetta. Questo respara? Kind of close. Mi sposto a sinistra. Sei tu quello sopra la roccia? Sì, sono io. Ah, lo stai controllando tu allora. Sì, stai controllando io. E non lo sapete che stai controllando. Scendiamo da di qua, magari. Stiamo scendendo bene qui, bruffo. E da dove sto andando verso la roccia dove ti ho visto. Ma qua? Eccolo qui. Sto vedendo se c'è qualcuno più che altro. Marcherone è andato. Apra pure la cassa. Di solo alberi e rocce è difficilissimo fare le golle poi. M62. Allora, l'altro è esattamente a metà tra ZB016 e il campionato di E. C'è una roccia. Ah, c'è Sturman, regà. ZB016 e il campionato di E. Davanti a me c'è qualcosa. Sparate voi che io non so silenziato. Fate voi. Va bene. Mamma mia paura di dietro di me. Sei tu che corri a sinistra? Vedi l'aereo? Sì. Sono sopra la cochinetta qua. Sì, sì, sì. Vedo la roccia. Non vedo te, ma vedo la roccia. Sì, stiamo sotto la roccia. C'è una a destra che sta cambiando. Con l'airframe, sei tu. Ah, porco tu. Scusa, sono io, sono io. Ok, ok. Ti ho riconosciuto con l'airframe. Hai aperto tu la cassa? No. Dove c'è questa? Stavo stagurato. Ti ho mirato preciso in testa, fratano. Ho visto, ho girato e c'era un po' di ritiro. Ho detto, e questo chi è? Ok, l'altra è dall'altro lato? L'altra è quella perfettetta B14C. La cosa migliore sarebbe fare il solito giro che facciamo quando dobbiamo uscire ad Outskirts. Tra l'altro noi dobbiamo uscire ad Outskirts. Outskirts. Io, ok. In questa rampa non mi piace correre perché mi guardo i dettagli, non prego. Mentre corgo. Ah sì, straveroccia, qualcosa che corre. Davanti a te, gravi di ore 11, tipo. Deve dirci una piccola guanitetta. Non scavo, se non sbaglio. Ok. L'ho visto, l'ho perso. E lo vedo, lo vedo, è sempre là. Ho tappato, senti. Non va. C'è chi l'ha... Stiamo sparando. Non l'hanno droppato? Sei vivo? Sì, 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 no, sì. C'è un altro a destra. È un altro. Hai droppato tu? No, non lo so. Chi l'ha droppato? Io ho droppato. Io no, io no. Io no. Scusa, ma ha fatto il coscio al casco e quindi non vedevo se l'avevo droppato. Solo per sapere che aveva sparato. Ha fatto HS questo, cioè, vabbè, è il primo che prima ha sparato. Wow. È l'altro a destra. Ho droppato io. Stato di me, no, no. Sì, sì. Drillo. Si bia forse sopra? No, lo so. Storzio. Storzio, mi ha tentato giù. Hai fatto? Sì, sinistra. Ho droppato. C'è qualcos'altro? No. Morti? Sì. Ci scegli tutti? Sì. Ando a plantare. Voglio provare a tornare indietro per mettere la telecamera. Storzio. Storzio. In questa mappa è meglio stare sempre sotto painkiller. Se ti fanno una gamba e non ti puoi muovere, sei nella merda. Che belli che siamo così a ombrello. Sento uno di voi alla mia sinistra, uno di voi alla mia destra. Mi sento tipo, boh, gigant c'ha dato così. Spara a voi? Molto vicino. Lodge di legno. No, no, no. Lodge di legno. Guarda a destra io. Trovai la voce a sinistra. Sovrai la voce a sinistra. L'ho sparato. Vittato. Droppato. Enorme, ha un airframe. Chi ha sparato ora? Ma ragazzi c'è una casetta di legno. C'è uno scav che ha sparato qualcuno. Ah, uno scav che sparava? Sì. Non ha sparato a voi. No, a me non mi ha sparato. Ah no, non, non. Allora c'è un altro player, ok. Grosso quello, eh. Mi spara? Mi sape da destra. Basso a destra. Mi stanno sparando. Sì, uno scav. Scusa, ma il legno che avete detto dov'è? Ha correndo. Allora c'è dopo casetta di legno. In fondo, ore 12. Eh, non lo sapevo. Ore, ore 1, 2. Ha correndo. Sta andando sul cadavere dell'amico. Sì, sta andando sul cadavere dell'amico, sì. Mi ha largo a destra, cazzo. Non c'è pure. No. Sono ai Lodge. Mi sono andato a destra. Lui è largo a sinistra, correva, vero? Lo vedono? C'è la roccia. Troppato. Troppato. Maddo. È dato la kill. Mission elimination. Godo. L'ho fatta. Troppato tu, non ci credi. Sì, ma ti abbiamo sparato prima. Abbiamo sparato prima. Chi è? Scab. Ci avviciniamo per andare a vedere. Poi. Ho fatto la roccia. Faccio la cavia. Oh, è dentro il cifo. Dove a destra? Ma fa anche il padre. È dentro il cifo. Dentro c'è spuglia. È sdraiato. Sono bloccato il mio personaggio. Troppato. Ma che vita di merda. Vi devo nascondere la roba, vero? Io ho provato sia a fugargo, ma non si vedeva. Ah, io ho cominciato a sparare nel cadavere, raga. Eh, ma anche io ho fatto così, ma non si vedeva. Lo butti in acqua, ok? Ma... Ma... Ah, cazzo, pure il rig di tuo puttano. Ho sentito sparare. È solo quello che mi preoccupo, che devo lutare pure. Non ha ammazzato Pabba Natale. Dove cazzo l'ho droppato ora? Un po' più a destra rispetto a dove stai camminando. Questo aveva un esercito di granate. Sono lentissimo, raga. Comunque, raga, davvero provatevelo a buildare quest'arma. Già fatto. Rimanete estasiati da quello che è. Abbiamo già lutato abbastanza, abbiamo già perso troppo tempo. Sono ancora lento a lutare. Madonna, cioè, ma guarda come cazzo tira dritto quest'arma. Porca puttana. Cioè, che cazzo è? Mamma mia, ma tira dritto come poche cose al mondo, sta arma. Ma poi c'è sto rumore, tipo, proprio... Così, sto schiaffo metallico che ti arriva addosso. Tira dritto come l'apo Elkan, sì, sì. Ciao, ciao.